Ancora tanto Cilento nella storia del nuovo Napoli che sta costruendo il presidente dell'Aurentis. Una cena per sancire un nuovo accordo è quella che è andata in scena ieri sera tra Aurelio dell'Aurentis e mister Antonio Conte. Una cena che sa però tanto di Cilentano, visti che seduti uno di fronte all'altro si sono ritrovati a Roma da Rinaldi al Quirinale, il ristorante che vanta una gestione cilentana. La famiglia Rinaldi è infatti originaria di Vallo della Lucania e che ospita i tanti VIP che si trovano nella capitale. Un patto per la costruzione del nuovo Napoli che è stato sancito nel ristorante cilentano e che quindi segue l'arrivo alla guida della direzione sportiva del Napoli di Giovanni Manna, un altro cilentano doc. Manna infatti originario di Cardele nel comune di Gioe Cilento. Insomma un dell'Aurentis che trova sponda nel cilento per guardare con speranza al futuro. Sulla cena di ieri sera, a parte questa foto, trapela poco dalle cucine del ristorante El Quirinale, ristorante a Roma noto per essere una meta prediletta da molte celebrità e personalità importanti. Restando nel mondo del calcio, Rinaldi al Quirinale è tra i ristoranti preferiti da Capitan Totti. Situato vicino al palazzo del Quirinale, al centro della capitale, dove la famiglia Rinaldi vanta un'esperienza ristorativa da 50 anni, iniziata con Antonio, il capofamiglia cilentano doc di Vallo della Lucania, e trapiantato a Roma, una tradizione proseguita poi dai figli Vincenzo e Daniele, che con dedizione, partecipazione, grande qualità e la selezione delle importanti materie prime alla base delle loro pietanze, sono diventati gran punto di riferimento per la ristorazione romana.